. Silvia Toffani infesteggia con Romina Power, è successo a Verissimo. . . Romina Power a Verissimo parla di Albano. Silvia Toffani e il pubblico festeggiano. Per la prima volta nella storia della trasmissione, oggi pomeriggio a Verissimo, il programma di cronaca rosa in onda il sabato su Canale 5, è stata ospite Romina Power. . 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 Subito dopo aver espresso il suo pensiero si pente di ciò che ha detto e afferma che ora con le sue dichiarazioni a Verissimo ci faranno almeno 30 trasmissioni. Per evitarle, scherzando, dice a Silvia Toffanin che si andrà a rifugiare in America. Verissimo, Romina Power ricorda il papà insieme a Silvia Toffanin. Silvia Toffanin vuole viaggiare con la macchina del tempo in questa intervista e così, dopo aver parlato di Albano e le dichiarazioni molto forti che ha voluto rilasciare Romina Power, riguardo al rapporto tra i due, fa partire un servizio dove si ripercorre la sua vita. Si inizia con il parlare del papà di Romina Power, lei lo ha perso troppo presto, a sette anni, quando il papà ne aveva 44. Nel corso della sua infanzia, la sua adolescenza e non solo, lo ha sempre cercato nei ricordi degli altri, nei sogni e nelle foto. Avrebbe voluto vivere insieme a lui e condividere le loro passioni. La vita l'ha strappato dal mondo troppo presto aggiunge la cantante. Parlando della mamma spiega Verissimo che lei non ha mai voluto parlare più di tanto del padre, essendo i due separati. Con la mamma, Romina ha sempre avuto un ottimo rapporto, lei l'ha sempre lasciata libera di vivere e Romina se ne è presa cura fino all'ultimo istante, soprattutto durante la malattia. La perdita le ha permesso di stringere un legame molto forte con la mamma. La cantante aggiunge che ora preferisce vivere in Italia anziché in America, specialmente da quando ha assunto il potere Donald Trump, il quale viene definito da quest'ultima il loro disastro. Romina Power preferisce non trattare l'argomento e così l'intervista si conclude con l'entrata in studio di alcuni suoi fans che le fanno dei regali e delle domande. Romina Power preferisce non trattare l'argomento e così l'intervista si vede.